Sto vedendo una riproduzione 3D realistica del Parlamento Europeo. Non essere fisicamente nella reale stanza del Parlamento Europeo, ma esserlo nella stanza virtuale. E' una proiezione in futuro del lavoro che oggi viene svolto nel Parlamento. Metaverso consenterà di sentirsi quasi fisicamente in questi luoghi, quindi ancora di più rispetto alle tecnologie che oggi già utilizziamo in maniera massiva. Giusto? Sì. Ecco qua. Naturalmente parliamo del Parlamento Europeo a Strasburgo. Strasburgo, un viaggio a Strasburgo. Un momento è vuoto, però è spettacolare, sembra esserci dentro. E' un altro universo. Un altro universo. Un metaverso, uno dei tanti possibili universi, un metaverso. Guardando in alto è perfetto, sembra davvero essere lì. Posso prendere veramente una parola, ho proprio l'emiciclo di fronte. Immersivo, bello. Bello, bello, bello. Vi attento. Grazie a tutti.